Questa che stiamo per suonare è una giga irlandese, un pezzo popolare irlandese come se fosse una tarantella o una pizzica ed erano dei pezzi propriamente fatti per il ballo se vogliono ballare a casa e che stiamo per suonare è una giga irlandese come se fosse una tarantella o una piñera e che stiamo per suonare è una giga irlandese come se fosse una tarantella o una piñera e che stiamo per suonare è una giga irlandese come se fosse una tarantella o una piñera e che stiamo per suonare è una giga irlandese come se fosse una piñera e che stiamo per suonare è una giga irlandese come se fosse una piñera e che stiamo per suonare è una giga irlandese come se fosse una piñera e che stiamo per suonare è una giga irlandese come se fosse una piñera e che stiamo per suonare è una giga irlandese come se fosse una piñera e che stiamo per suonare è una piñera Grazie a tutti. Grazie a tutti.